Allora, Giormano Lanzoni, milanese imbruttito a Varese, ma tu hai un po' di Varese nel cuore. Certo, allora qua in versione di personaggio direi che è la città dell'Insubria, in realtà invece qua non soltanto sono legato a livello sentimentale a mia moglie di Varese, ma in realtà ho attraversato uno del periodo più bello formativo, quando andavo all'Arlecchino è stato per me cinque anni a livello proprio della mia professione di comico, una vera accademia con tutti i comici che ho visto su quel palco, quindi ogni volta è tornare in una città che amo, non c'è più il mio parrucchiere preferito che Renatino, che lui ha abbandonato Varese per andare in Finlandia e poi mi diamo in centro, non vi avete, non è che stavo a bugugiate, figa. Senti, prima di tornare al cinema, hai parlato del cabaret, io ti faccio fare un passo dal teatro, perché noi ti conosciamo con le tue doppie facce, il milanese, ma anche quel milanese che il martedì porta il cabaret e il teatro al canzone, quindi Germano e tutti e due, cosa prevale sulla tua carriera? Allora, istintivamente ti direi che sono più del cabaret, sono nato in uno in cui fare il cabaret era una professione bellissima, lo è tuttora, sono legato alla scuola milanese, quindi fare il teatro al canzone, all'altro è una città varese che ha dato i Natali a una serie di artisti da tutto il territorio, da Iacchetti al grande Renato Pozzetto, poi insomma i fichi d'India, quindi io amo tantissimo quel tipo di migrazione tra la supercazzola e il pubblico, poi il personaggio invece esplose in un'altra piattaforma ed è stata, se vuoi, il mio personaggio direbbe un drive per raggiungere il maggiore pubblico, rimango sempre molto, allora io mi sento a casa quando sono su un palco dal vivo. Bene, invece torniamo al cinema oggi con Ricomincio d'Attac, il tuo grande tormentone, ma mi sono chiesta quanto c'è di scritto in questo film e quanto c'è di improvvisato? No, no, c'è molto più di scritto di quello che si pensa, cioè è vero che magari anche nei video siamo molto libri di improvvisare, però il video diciamo è su una struttura in cui la battuta chiude la scena, spesso e volentieri, invece il film è su una storia, la sceneggiatura qui è, sono stati molto a te, ci hanno dato libertà di gioco, ma l'obiettivo è riuscire a far scorrere la storia. Siccome è un film corale, dopo ci sono io come Firouge, intorno a me c'è un cast incredibile, molte volte si ride per le azioni e le reazioni del cast, quindi siamo rimasti molto fedele perché sia i registi che sono anche gli sceneggiatori scrivono davvero molto bene, quindi per chi fa il mio mestiere ogni tanto non pensare a adesso cosa cazzo invento, è stata una fortuna, io adoro lavorare con loro perché scrivono bene. Senti, l'ultima battuta, tu lo sai che nell'altra sala c'è il film sull'Inter? Sì, quindi diciamo, vabbè, comunque diciamo che mai che vada, ricordo che domenica scorsa mi hanno regalato una bella gioia, poi il cinema è il cinema, io invitiamo le persone ad andare al cinema, abbandonare il divano, siamo abituati a guardare le piattaforme, a scrollare il cellulare, il cinema, invece è ancora un'opportunità per uscire e vivere nella storia la tua storia, quindi mollate il divano, venite al cinema e se non siete interisti, dove volete andare, ricomincio da tac, tac! a a a a a a a